Buonasera, scusate, com'è il gelato qui? Buona! Grazie Siete sul lago di Lesina e vi viene all'improvviso voglia di gelato Il nome è uno, c'è Lago, l'amore per il lago e l'amore per il gelato Insieme a Alfonso e Vittorio, due ragazzi che promettono veramente bene il gelato artigianale al 100% Dedicato al territorio, gluten free e senza lattosio, praticamente gelato all per tutti Vado, 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 venuta voglia di gelato Ciao amici di Puglia Advisor, il mio viaggio nelle eccellenze pugliesi non poteva che fare tappa anche nel gelato E questi due ragazzi hanno capito una cosa importantissima, il gelato deve essere alla portata di tutti e per tutti Infatti anche se siete intolleranti al lattosio o al glutine potete degustare questa prelibatezza Una gelateria frequentatissima, una location spettacolare a due passi dal mare Sì però mostro gelata a me, me lo fate assaggiare? Sì o no? Ah ecco, grazie signori E che ve lo dico a fare? Qua c'è veramente il gusto Amore per il territorio, materie prime eccellenti, gusto unico e sapere che tutto naturale ha veramente qualcosa di eccezionale Questi due ragazzi la sanno lunga e faranno veramente molta, molta strada Sì però, fatemi rilassare Guardate qua, guardate che spettacolo Ah, brava Fonzo, brava Vittoria A proposito, che fai? Lo lasci sulle mani? No 3, 2, 1, ok Che ve lo dico a fare? A proposito, qui i bambini sono di casa e io devo dire una cosa ai ragazzi Volevo dire una cosa a Fonzo e a Vittoria I bambini avevano ragione Complimenti Grazie Alla prossima Ciao